Mi fa un enorme piacere che ti stia interessando al mio ultimo sistema d'allenamento che prende il nome di sistema 4 workout e sono letteralmente impazzito quando ho creato questo percorso di 4 minuti perché l'ho definito gli allenamenti componibili, mini sessioni che potrai andare a comporre per andare a creare il tuo percorso personalizzato di lavoro, un lavoro dedicato all'alta intensità quindi un lavoro unico di sistemi di interval training che potranno permetterti di andare a migliorare la tua percentuale di grasso quindi a migliorare la tua composizione corporale. Lo scopo di questi allenamenti ad alta intensità per come li ho strutturati è quello di farti ridurre la percentuale di grasso e tirar fuori il meglio del tuo fisico dandoti un fisico atletico e tonico. Questi percorsi sono ideali sia per uomini sia per donne all'interno di questo percorso unico nel suo genere troverai tutto quello che ti serve per allenarti al meglio e centrare grandi risultati. Se ancora non mi conosci io sono il coach Umberto Miletti. In questi anni grazie ai miei sistemi di allenamento ho avuto la possibilità di allenare decine di migliaia di persone e sono diventato il coach virtuale di tantissimi italiani. Tanti mi considerano il loro coach perché da anni mi seguono e da anni stanno bene, migliorano la loro salute, migliorano il loro fisico. Con il sistema 4 workout voglio aiutare anche te permettendoti di avere tra le mani un sistema realmente pratico per ottenere fin da subito grandi risultati sul tuo corpo. Ecco non voglio illuderti e ti dico subito che quello che dovrai fare è comunque un percorso serio, dovrai metterci impegno, costanza, determinazione, faticare nei workout perché facciamo un sistema HIT. I sistemi HIT funzionano e infatti sono uno degli allenamenti più utilizzati nel mondo ma per funzionare devi in questi pochi minuti di allenamento che fai dare veramente tutto quello che hai. Solo così questo ti permetterà di andare a migliorare, a ridurre il grasso corporeo e tirar fuori il meglio dal tuo fisico. Ti chiederai cosa troverai all'interno del percorso che ho creato e ho chiamato 4 workout. Bene all'interno di questo percorso troverai come ti dicevo tutto quello che ti serve per centrare grandi risultati. In primis troverai un manuale operativo. Il manuale operativo è un po' la nostra bibbia, quello che ti spiegherà esattamente quello che dovrai andare a fare e come andare a mettere in pratica i vari sistemi che troverai all'interno e tutte le schede di lavoro. Quindi avrai un manuale in pdf che volendoti puoi anche stampare con tutto quello che ti serve per non sbagliare. Però quando accedi in questo percorso accedi anche alla mia speciale piattaforma di lavoro e quindi troverai poi tutto il percorso d'allenamento in video. Quindi la cosa bella del sistema 4 workout è che ci alleniamo insieme. Fai partire i video, mi segui, ti decto io i tempi, ti faccio vedere gli esercizi, ti do le varianti, ti correggo l'esecuzione perché ti spiego esattamente come andarla a mettere in pratica. Quindi tu cercherai di replicare quello che io faccio e quindi in questa maniera divento proprio il tuo coach virtuale, ci alleniamo insieme, ti faccio faticare ma non dovrai pensare a niente perché i tempi di lavoro te li tengo io. Finito, metti completato e hai finito la tua sessione di lavoro. È veramente un sistema comodo per allenarsi. Ecco troverai all'interno del sistema 9 schede di lavoro, 9 schede di lavoro che ti permetteranno di allenare circa 9 mesi. ma all'interno di questo percorso ho voluto darti di più. Quindi troverai inclusi anche dei bonus di altissimo valore perché troverai come bonus tre schede, tre schede che così ti permettono di completare un anno di lavoro. Quindi in totale troverai all'interno del percorso 12 schede differenti di workout progettati con il sistema 4 workout. Ma non basta. All'interno troverai anche dei video di spiegazioni di tutto il sistema 4 workout che ti permetteranno di capire a fondo quello che c'è dietro il lavoro del 4 workout e come andare a mettere in pratica al meglio il sistema che ti ho progettato. E ti spiegherò che potrai andare a lavorare a blocchi alterni o a blocchi continui ma tutto ti sarà ampiamente spiegato in modo tale che potrai andare a personalizzare al meglio il lavoro per le tue caratteristiche. Ma non basta. Troverai anche all'interno di questo percorso dei consigli nutrizionali perché sappiamo bene che se vuoi migliorare la tua composizione corporea, vuoi ridurre il tuo grasso corporeo, vuoi togliere la pancetta, vuoi ridurre le maniglie dell'amore, devi mangiare anche bene. Quindi semplici consigli che potrai leggere, ci saranno degli schemi alimentari che potrai prendere come esempi e quindi andare a creare un percorso adatto alle tue caratteristiche. Poi sempre all'interno di questo percorso del quattro workout ti ho inserito dei video extra. Questi video extra andranno ad arricchire il tuo percorso d'allenamento perché magari hai qualche carenza muscolare che non so magari è una carenza di glutei, troverai dei video specifici per andare ad interessare maggiormente i glutei. Quindi potrai veramente andare ad organizzare al meglio le tue sessioni d'allenamento cercando di seguire un po' quello che serve più a te. Quindi devi andare ad organizzare sessioni più brevi, puoi organizzarle più brevi, un po' più lunghe, un po' più lunghe. Se devi inserire dei lavori aggiuntivi potrai inserire dei lavori aggiuntivi. C'è veramente tutto quello che ti serve per allenarti e centrare grandi risultati. Una cosa importante, tutto il lavoro è stato creato per poterti allenare in casa. Quindi non hai bisogno di iscriverti in palestra, andare a cercare parcheggio, stare in mezzo alla confusione. No, tra la comodità delle mura domestiche puoi allenarti e puoi trovare veramente l'opportunità di ottenere un grandissimo fisico. Questi quattro workout poi non richiedono attrezzi particolari. Ti basterà allenarti a corpo libero e con una coppia di manubri. E con una coppia di manubri leggera, quindi potrebbero andare bene se sei a ieri, se sei stato fermo da tanto. Anche due bottiglie vanno benissimo perché già con due bottiglie applicando il sistema quattro workout farai tanta fatica. Ovviamente se sei già un po' più allenato 3, 4, 5 chili possono andare bene. Però una piccola spesa con attrezzi che puoi mettere poi ovunque a casa ti permetteranno di centrare grandissimi risultati. Tutto questo mi segui in video, ci alleniamo insieme. Non devi pensare a niente, veramente la cosa comoda è non devi pensare a niente se non far partire il video e allenarti con me. Questa è la forza dei sistemi ad alta intensità che ho progettato in questi anni. E il quattro workout è un sistema secondo me pazzesco perché ti permette di andare a comporre l'allenamento in funzione di te, in funzione delle tue caratteristiche. Workout brevi, workout intensi, workout che funzionano. Che funzionano per andare a ridurre il grasso corporeo, per andare a migliorare il tono e dare al tuo fisico più funzionalità, più benessere, più salute. Questo è quello che il coach Umberto Miletto si prefigge con questo allenamento di quattro minuti con sessioni componibile. Quindi adesso hai un'occasione unica, troverai in questa pagina la mia migliore offerta per te. Io non me la farei scappare, sei a pochi passi da un allenamento che cambierà il tuo modo di allenarti e di vedere i workout. Sotto con il quattro workout io ti aspetto nella tua area personale per iniziare ad allenarci insieme. Dacci dentro, clicca sotto e fai subito il tuo acquisto.